Compie oggi 90 anni Liliana Cavani, regista e sceneggiatrice di talento, nata a Carpi, in Emilia originaria di Mantova, ottima laurea in lettere antiche, si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, interpreta e brillante di una stagione di impegno femminile quando alle donne erano riservati posti di secondo piano. I suoi primi documentari li ha firmati per la RAI dal 1963, dalla storia del Terzo Reich, alla Casa in Italia e la donna nella resistenza. Si è mossa con intelligenza e capacità sui suoi set tra religione e scienza, tra fede e ragione, folgorata dalla figura di San Francesco e ha realizzato ben tre film sul poverello d'Assisi, la prima volta nel 1966, poi nel 1989 con un sorprendente Mickey Rourke, quello di nove settimane e mezzo, infine nel 2014 per la TV. Ma i suoi film spaziano dal discusso Il portiere di notte con Charlotte Rampling, icona scomoda tra perversioni ed holocausto, al durissimo La pelle con Marcello Mastroianni, al di là del bene e del male e l'hollywoodiano Il gioco di Ripley. Nel 2023 il suo atteso è ritorno con L'Ordine del tempo, protagonisti Claudia Gerini ed Alessandro Gasmo.